In un deserto un truco si incontrarono, senza volerlo per caso si guardarono. Un bromedario ricco ed un cammello povero si salutarono, si oltrepassarono, poi si fermarono, ci ripensarono e ritornarono, si riguardarono e il bromedario disse così. Beh, perché tu c'hai due gotte e io ne ho solo una, perché mi guardi imbambolato dalla duna, perché continui a masticare e non rispondi, da me ne è una, se me la prendi una fortuna ti darò. E il cammello essendo bisognevole, per un momento si dimostra rendevole, Poi si guardò le gotte, con occhio lacrime voler, e allo ci ripensò, e se le riguardò, la testa dottolò, e poi la dollevò, lo sguardo corrucciò, e il petto si compiò, e il bromedario disse così. Sai che c'è? Io resto con due gotte e tu con una, perché? Non me ne importa della tua fortuna, perché? Sono povero, ma bello e nervoluto, e dalla duna, io ti saluto e con due gotte me ne do. Così si riconferma che il cammello è picobbuto, e il bromedario non lo comparesterà.